Si chiama Gambero Killer, che da qualche anno è balzato gli oneri della cronaca, guadagnandosi la fama del mostro delle paludi. Questo crostaceo d'acqua dolce, originario della Louisiana, è stato avvistato da un nostro reporter di strada, nei pressi della centrale del gas, nella zona tombaccia di Fano, ad un centinaio di metri dalle acque del Metauro. L'anomia di Killer è motivata dal loro impatto distruttivo sugli animali e sulla biodiversità, aggravato dal fatto che questi crostacei sono portatori sani della peste del Gambero, che può uccidere comunemente il Gambero di fiume, oltre alla distruzione delle uova anche di altri pesci. Colonizzato per scopi alimentari in gran parte dei laghi dei fiumi a corso lento d'Italia ed Europa, il Gambero si trova facilmente anche nelle risaie, nei piccoli canali, luoghi naturali nel quale il crostaceo trova le condizioni ideali per riprodursi fino a tre volte all'anno, per un totale di circa 600 uova complessive. Il crostaceo, avvistato a Fano, si tratta di una delle specie più invasive del continente, tant'è che l'omonima specie è riconosciuta dalle comunità europee. A causa della provenienza extraeuropea, inoltre, la presenza di questo animale è ancora più monitorata rispetto ad altre specie invasive, come quella del pesce siluro. Le sue caratteristiche fisiologiche, riconoscibili per il suo colore rosso, scuro, per la carapace ruvido e per la presenza di una spina nella base delle chele, può raggiungere fino a 20 centimetri di lunghezza e può nutrirsi di qualsiasi cosa e li capiti, dei vegetali fino agli animali vivi o morti, essendo cannibale come altri pesci e crostacei. La particolarità del Gambero della Louisiana supporta l'inquinamento e la salinità delle acque, tanto da potersi spingere anche verso le foci dei fiumi, sopportando un livello di acqua a volte elevato.